A striscia la notizia si è tornati a parlare del caso di Andrea Giambruno. Dopo i fuori onda pubblicati il 18 ottobre, Roberto Lipari e Sergio Friscia hanno aperto la puntata di lunedì 23 ottobre riprendendo quanto accaduto negli ultimi giorni. I due conduttori hanno parlato di come il programma di Antonio Ricci sia stato oggetto di analisi e di retroscena, chiudendo successivamente il discorso in modo ironico. Caso Giambruno. Parlano Lipari e Friscia. Due giorni dopo la divulgazione dei fuori onda, la premier Giorgia Meloni aveva annunciato con un post su Instagram la fine della relazione con Andrea Giambruno, ringraziandolo degli anni passati insieme. Non era passata inosservata la frase di chiusura del post. Che sembrava essere una stoccata a Mediaset. Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra. La pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Ecco quindi che, in apertura della puntata di Striscia la notizia, Roberto Lipari ha provveduto a fare chiarezza. A proposito di Giambruno. Si parla tanto di chi c'è dietro i nostri fuori onda e poco di quello che c'è dentro. Questo è un paradosso. Ma vogliamo assicurarvi che dietro non c'è niente. Al massimo qualcosa davanti. La panza di Friscia. È evidente. Ma c'è una frase. Che è diventata la frase del momento. Che è. Per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra. La pietra rimane la pietra e la goccia resta acqua. E molti hanno detto che questa frase potrebbe essere rivolta a noi. C'è stata quindi la replica di Sergio Friscia. Che si è velatamente rifatto alle parole utilizzate da Antonio Ricci per commentare la vicenda. Ma non è possibile. Se tu la perdita dell'acqua ce l'hai in casa. Non è che la puoi pigliare con gli idraulici che ti hanno fatto vedere dov'era il guasto. A chiudere il discorso è stato Roberto Lipari. Quindi alla fine. Qual è la morale di questa storia? Il lupo lo puoi incontrare quando esci bevi. Ma magari lo puoi incontrare anche a casa. In redazione. Su chi.